Occhio al traversone Ha trovato un bellissimo gol di testa qui Deviazione di testa perfetta, nulla da fare qui per il portiere Perentorio nel suo colpo di testa E' una grande soddisfazione per lui, per una doppietta che conferma le sue straordinarie doti La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico Il tecnico può allentare un po' la tensione Fin qui sta andando tutto per il verso giusto